Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. 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 muoverò il patto muoverò il patto lo tengo a 5 p ah, 5 il più grande storia lì ora io passo se lo sentite ogni tanto ve lo va lì oh, oh, oh oh, oh, oh oh, oh, oh oh, oh, oh oh, 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 oh E' un po'. E' un po' bello, e' un po' bello! Ha' spavato sicurissimo, son famiglia! Sì, non mi chiedo. Che è, non mi chiedo di più! E' un po' bello! E' un po' bello, non mi chiedo. E', non mi chiedo, non mi chiedo. Ma tu mi chiedo, la seconda, signore... Venga, bravo, bravo, non son rassisti, fin qui. Eh? A terzo? E' un po' bello! 3 a 3 adesso te lo ciranisco con tutta la musica e se ne è, se ne è non arriviamo fino ai tuoi i bambini, i bambini io devo anche le mattine a po' di chiare i bambini e io devo anche le mattine a po' di chiare un progetto come ci sono tutti la cassa città, che non lo fa questo è una mezz'ultra gente di voi avete ragione ma avete visto voi lo stanno andando solo i fratelli una giornata sana fino a quando mia moglie si saluta con la signorina della televisione e finalmente scende la torre silenziosa notte e viene a me e vattene un video i ribadini fate pure i ribadini come noi la seconda figlia mia che sposano da poco quindi andate con me vattene un occhio cinque però auguglio grazie mia figlia ha parlato da cinque cinque pezzi figuratevi una voce di bambini che c'è ingerita la nuova qui ho città mamma e figlia tutte e tre tutte e tre scusate ma mamma e figlia non sono due 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 gemelle perfettamente sincronizzate per me scegliere capito capito fratello caro ma da me che volete che posso fare? solo te una casa senti ti ho fatto al posto filone a un ucino filone a un ucino quando mi faccio sesto ho fatto le sogno quando sono pulito sono pulito di chiasse e chiasse per l'azienda e su e madine e madine si signoro poi mi alzo e vado a fare un tata in casa lì e non so se sei da domare ma è tutto occupato ma pensi ora non c'è una scuola 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 e dite tagliamo il posto centamila lire 30 mila lire beh 30 mila lire farà un eccezione ma non c'è una scuola non c'è una scuola se volete anche un documento no per poche ore non vi registro proprio facciamo così ora vi do la camera di Don Zipetto stavate una bella camera qua c'è uno che è dovuto partire improvvisamente ecco il letto è pronto dovete solo riposare o per l'acqua riposare riposare grazie sentite voi dovete campare cento anni e vi arrivi oh scusate ma cazzo si sta bene chiesi umano non cazzo non cazzo questa è la pensione della tranquillità tranquillità allora buonanotte grazie buonanotte buonanotte non cazzo non cazzo non cazzo ...segli gli겠ci e da un poteco . Anche voi mi winni . Anche voi mi gagnabla? Una nonna deve aver un avassù! La donna deve essere fedele! La donna è un cuomo di vida! No, non ti saluto in una mano! La tua camera è giudica! No, d'acqua non hai capito se pesce! E si tu vien? Rosso, risapita. Sveglia sempre un po' che è così cosa fa. Sì, così. Vi ha trovato il margarino sul rinno e non fiora. Ah, scusatelo ma tra i topi. Sarà, ma che vuoi? Sarà, ah, chi non è? Come c'è una parola? Sì, vai. E fa la vita. Sè la vita, non ci vuole la tua barata. Sangue e coraggio freddo. Sì, ma anche se? Coraggio e sangue freddo. Chiamola, chiamola. E' lui giami. Sì, ma subito. auguri cento di questi giorni signora maudata sia o mia signora per il nostro fratello Magno lo quale è stupietico, profumato, distensivo mi ha sbagliato i piedi 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 ah mi è passato tu vuoi fare che stai facendo ecco 5 6 fan 11 mi faccio previsi che potresti ve ne porto l'una 1 2 3 4 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 9 9 9 signora per carità andate nel bagno anche voi mi domandate se vado al bagno viene la terza persona che non chiede signora No, perché io volevo dire, ma che volevo dire? Ma che è occupato? È occupato. No, signora, non vado al bagno. No, non vado al bagno. Ma non vado al bagno. Ma toglietemi una curiosità, portate i coli. Facci il conto, facci il conto. Per vedere quante litri se ne fanno. A un minuto, a un minuto, a un minuto, a un minuto. Signora, non vado a me. Ma a me che signora va? Credo non metterlo in tempo. E beh, signora, che male ci stai? Certo e ho. E quando non vado al bagno, uno deve sapere che il conto io mi si metto. E certo, signora, non vado a me che mi si metto. Eh. Ma vuoi che ti chiedi comunque? Non lo so. E qua qua dieci, chissà qua dieci? O chissà, per me le inchieste vanno a me. Ma certe intimità dovrebbero essere un po' più in mezzo? Cissà, cissà, ma qua dieci, qua dieci. Ma dieci, dieci. Guarda, un chissà, qua c'ho qua da me che vuoi. Ma chi c'ha da me che vuoi? Che stai dicendo? Voglio dire, qua dieci che vuoi. Che stai dicendo? Cossacini! Non c'ha mai. Non vado. Pompea mia. Perché avete fatto questo? Non vado a fare. Stai chiusa. Cossacini. Ma lo vi lì? Se lo vi lì? Ma lo vi lì? E tu gli sta a fare il nostro? Ma comunque ci ravvessa, a fare il nostro. 守i. No. La forza si fa fare che si è favore un po' di spazzia, la propria da... Sì, mamma mia! Giorno, Giorno, mi fa mai avuto per ambrosicare! Io so, se ne vedi! Io so, se ne vedi! Giorno, se ne vedi! Non siete mai in tazia la vostra! Ma sono finissimi contra la pasta? Ma adesso lo fanno l'avereo? Sopri lezze! Ma nella vasca mi siete messi? Ma sono funturato! No! Questa è indistruttibile! Non ce l'è! La terriera è fortissima! Ah, niente, stavo dando una mano a me lì da riordinare. La terriera regale la donazione al tuo signore padrone e questa volta me la porti a letto. Hai capito? Allora è possibile come farsi tu. No, c'è la terra per l'isolante. Guarda, proprio in modo che potevi stirare la bocca. Perché? Perché non tutti i vestirò? Ma perché non ho capito? Nella fine fai mancata la burretta. Ma bene, hai mancata la burretta. Ma proprio, dovrei chiamare la burretta per lei. No, no, chi sta già fuori? Come lo capisci? Chi ne si mette l'acqua e se ne va la burretta e c'è l'acqua e torna la burretta. Ma signore, io vado in bagno, ha fatto una duccia pubblicitaria. Ma no, vai a roba, tu non vai da tu, vai da tu. Mi vuoi tirare in all'acqua e siamo ne costruiti. Ma no, veramente, mamma mia! Ma mi ha preparato l'espione al tuo scucciallone! Opa! Ora sentivo pure la colazione che non bagna il signore corretto. La colazione se lo mangia in cucina. E io rispetto il regolamento fatto che è stata calda! E io ci vedo strana, pensierosa! Ecco ci vediamo! Uppure! E' passata un'altra mezz'ora della nostra vita! E' passata un'altra mezz'ora della nostra vita! E' saluto già a chi il mio! Ma non è che il mio cuore ci va a ruggire! E' una roma di cazzo! E' la luna non è trovata la zona! Un'esserea di luna! Veramente è venuto un seccriccio! Ma poi ho mangiato la torrente! Vada che ora 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 la torrente! Avventitevi per ogni cambiamento a tuo spesso! O mio buon che mannacca! La mia madre ha un cuore steno! Brava e scuola! Buon! Non mi faccio vedere come si può fare per ammazzare! Per ammazzare chi? Per ammazzare il cesso! Mi ragiono nannina! Non mi faccio mai al cesso! Non mi faccio vedere come si può fare! Se tu voglia più di un'altra cosa! E' 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 un'altra cosa! Per ammazzare il auto! Chiarà di cui! Dopo che quiere di quantoiquFil comeChic! E' un'altra cosa! Rai! Non lo vuoi ? Non lo vuoi? Non lo vuoi? Mi vuoi? Io non vi faccio vuole Non vi faccio vuole, non vi faccio vuole Quanta gocce, non ci ha metto ? No, non ne metto assai Lui non c'è davvero Io non ce ne ho bevo Non mi devo terrappare a fare Poi allora non metto Sì, ecco! Sì, ecco! Uno, due, tre! Eh, dai, non ripostano i loro signori. Sprega a destra! Oh mio! Eh, dai, non ripostano! Ma il nostro qualcuno! No, la luna non è stata nella gara! Ma calma, signora! Sono io, la signora Palmiera! Oddio, veramente la Palmiera! Sì! Dov'è là? Ma che feceva la signora? Eh, la signora stava dicendo le preghiere per i morti! E io stavo facendo una cosa, ma non mi ricordo che io faccio! E io stavo facendo delle cosce in questo pezzo! Sì, signora, lui ci vuol dire il pezzo! Ma sì! Ho capito! Ah! Adesso ci fai il solito! No, faccio tutto io! Sono in perdita di sua madre! Eh, sì, è di una madre la sua madre! È citata e mappiando di proprie! Quante cosci avete detto, signora? 880 volte! Ma come sono troppe? Non ce ne so! Unici, unici cosce! Aspetta che dov'è una cosa non è di... Dieci e undici! Ecco! Ecco qua! Ecco qua! Ecco qua! E adesso tutta per l'Adi! Per chi sono le cosce! Per me! Eeeeeee! Eeeeeee! Ha un'opera vista, bella! Sì! Ho capito! Penso che tu è allora, eh! Eeeeeee! Signora, per carità, io ci ho preso il mio medicinale! E lui che quando deve prendere il medicinale, fai capricci! A, 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 non c'è dare un polpantello! Avanti! Vedete qua! Vedete il medicinale! Senza pietà! Eeeeeee! 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 Eeeeeeeeeew! Eeeeeee! Eieee! Signora Fabina, hasСiedi proprio uno spirito d'olto e di description... Hai sentito questa spiritosa? A, aeee!! Però l'avete detta giusta! E' dita. Ma sì! Perché il caffè che si fa in questa pensione è realmente era! E' wol incidents e non si sapegami! Porta in giro, ora porta in giro! L counting! Gerati si scende! Certo! Io non posso! E' doch qui! Ho tu fatto chi spaihh!? Eh! Non ci può fare padre euch germa! La seconda anche, tutte nuovizie, mamma, non viene tutta. Camerina, camerina, è pronta questa colazione o no? Il caffè è pronta. No, meno male. Voi queste scala le dovete far riparare, avete capito? Io non ne ho purevo questa, adesso. Adesso vedi la colantina che lo fate in cucina, oi? Scusate, ma non ha mangiato la cosa in camera? Sì, in camera una volta, ma adesso è cambiato il regolamento, ve l'ha detto il direttore. Io direi tu. Vostro cos'è, mi sono dipinto. Ah, e ti fai direttore? Sì, ci fai direttore. Ehi, ci fai arrabbiato, ha detto il regolamento della pensione, che la colazione l'ha fatta in cucina. L'ultima cosa ha detto, perché sono un buono maggiore, ma non sta bene che un bambino come me se non vorrei la prima mattina. Voi la ricerati, non stavo volendo, ci fai affermando la prima mattina. E la cara, non va mai. Non stavo vicino a me, 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 non stavo vicino a me. E noi siamo qua, vicino a me, come tua statua e aspettavo. Ma che ci dà mai? Se l'hai muorta! Se l'hai muorta! Sì! Ma chi è gridato? Ma tu stai? Poi! Sì, non posso resistere l'ultima, c'è sta calza, c'è un'unica, ridà sta calza! Voglio parlare di un salito! Ma calvatevi! Ma Germano, donna Lennina, iniziamo a vedere questo cadavere! Mi sono un uomo morto! Ma come è nostro salito? Non ci vuole, non ci vuole! E ci vuole! Ma raccomando, fa una cosa, dammi, canta la canzone, va! Sì, io tu ce la rubiè! Ma non mi è attaccata la roba di qui! E che si fa, non ci vuole! Ma non ci vedete, non ci vuole! Dove se si fa! Ma siete un violetto, un mare di un calzone! Ma hai gambe mesi in caramella, ma quanto c'è voce, hai stranato! Roba! Ah no, no, la santo io hai gambe, è grande a scusare, sapete? Non ci vuole, non ci vuole! Oh, io voglio sapere che è successo! Il calzone di proprietà! Spero, ma che cosa fa? Oh, perché tu ha schiaffo vicino a con me! Eh! Oddio! Abbiate schiaffo cadavera! Oh, molto! Eh! Non può scompendere ma fate bene! Ma che ragazzi non è arrivata a spiegare giù, finiremo! Mi dà il fine, che mi sposta! Signora, lasciatelo, fatelo sfogare! Ma te, dottora, ti ha sfumato, ti ha sfumato! Ma stai lì, dottore! Ma stai lì, dottore! Vincitore, vincitore, vincitore! Vincitore, vincitore, vincitore! Vincitore, vincitore, vincitore! 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 Vincitore, vincitore, vincitore! Vincitore, vincitore, non può finire! Vincitore, signora, venite, ti confermo la camera! Vincitore! Ma è bene! Ma come fa? Vincitore, vincitore! Vincitore, vincitore! Senti, io vorrei sapere tu perché hai chiesto! Ma che ho un bambino che c'è la mia! Vincitore! Ma che mi sa lì? Ma che mi sa lì? Ma che mi sa lì? Ma che mi è riuscito! Vedete che era una volta! Ha venuto lì? Mi siamo ascoltati alla volta! Qui ci ha passato alla volta! Come siete trattati? Vincitore! Vincitore! Vincitore, vincitore, lontano, vincitore! Vincitore! Come sarebbe che avete fatto? Ma avete visto l'indaggiano da Gliocchi? Ma non lo vincitore? Ma non lo so che era bene! Mi capisco che io non magari anche saperla di salire! Avveno dalla politica! Avveno dalla politica! Ooooooooooooh! Buongiorno! Ma che stupendo un cubetto di piaccia in fronte? Ma che stupendo un cubetto mi ha spaccato la capote! Mi ha spaccato il troccoletto, andate! Oddio! Che stress! Che stress! L'offensione del suo fritto! Ma che stupendo? Ma che stupendo? Che stupendo? Guardate come l'hai andato e lì! Ma che è quei lì! Ma che è lì! Vieni lì! È passato un'altra mezz'ora della vostra vita! Ma che stupendo? Ma che stupendo? Ma che stupendo? Ma che stupendo? Ma noi non siamo capace! Ma non ho capito! Ma senza un po' di tirocini uno ci provi senza altro! Non si chiara! Ma anche per fare il giusto! Chiara ci vuole il tirocino! Ma non facciamo il giusto! Ma non facciamo il giusto! Presente! È per un bel momento! Ma che age dovuto in una legge! Ma che intendi lei che sarebbe? E voglio vissare il volto ci! Ma che ha il volto in un.... Ah appena mi chiamati Sior De I Phong! Na ora criticism se vuoi farlo e apre Perto Rem Perishing! Grazie a tutti. 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 Fai l'appunto, tu scappo! Miocchina, fatemi andare a Rupine, tu ti ammazzare! No! E mi sono venuti a essere arrivati dalla piccina a Napoli! Tutto in strada è glorioso, per il salario! Scappo me! E dove scappo? Mi troveremmo dovunque! Se è rapida, io ti ho sempre amato! Se è rapida, io ti scopo! Oh, no, vicino! Il vino su pacello, se il lavoro tu fa odio! Ecco il pacello, lo vado di questa cesta! E' per le ciglie! Non lo voglio un lopo! E' l'azzo! E' l'azzo pure, perciò me lo vado! Eh sì! Ma non lo vado, ma non lo vado, ma non lo vado! Hai te dato un giro di andare sulla strada di Mosè! Perché faccio non lo fare, ma io non lo vado! Non mi stiamo provando, vicino, vicino, bravo! Sì! Mi scopo di farlo! Vai, mi ha spazzato! Eh! Ma non lo vado, vicino, vicino, io non lo vado! Ma ecco! Mi vuole far cacchino la cera, non lo vado! Rirà! Ah, vicino, vicino! Bambine! Ecco il tuo padre! Mamà, mamà! Questa è la mia donna, se la finta! Sì, siamo noi! Bambine, avete un bagliato padre? L'infanzo non è questo! Ecco il tuo padre! Bambine! Lei mi chiamo da papà, come scappare? Ma non ti piace! È il tuo padre! Bambine! Bambino! 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 Non vuoi morire guardato! Ciamolo! Ciamolo, no c'è più mandato! No, lui c'è il Dore, mi sbocca! Ah, mio mio! Ah, no, sono con me! Sì, sì, non l'ha prometto! Non è subito il suicidio! Inmediatamente! Bisogna fare colare a Don Pippo! Annullare la commissione! Dino da me! Bambine, aspettate che cosa sto facendo! Noi vediamo qui! Andiamo a giocare un po' aereo! Ma io stai facendo la macchina! Speravilla! Il padre! Mamma, papà, dove siete? Uè! Che cosa è la mamma mia? Potete essere felici? Ricci, non mi lascia! Speravilla! Quelle sono le figlie! Mamma mia, mamma mia, c'è il Dio, c'è il Speravilla! Questa, oddio! Lei che ha concesso! E come è il Speravilla? No comments! No comments! Eh, che capisci che ci stanno fuori dietro! Eh, sentite, bambine! Eh, parlate piano! Io non capisce! Speravilla! 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 Aspett! Ma chi ens chi! Ciao bello! Ciao bello! Siem ne manOLLAN informação! Noo, nooo! Ma queste non sono americani! Quelle sono bello s 650! Vi sentite soli! Sietaces le figlie di Gino Bore! Adatta di gestione! papà è morta, papà è morta mai raggiungi di strisci una borsa oh patatari nauta, pietà di noi, c'è il bambino molto fine ma siete sicure, capito? papà è morta, papà è morta oh papà è morta, papà è morta oh papà è morta, papà è morta ma non ti sento al primo non ti meravigli, che ti si è scenduto o troppo il generale non mi meraviglieria Non capite, ma che fate? Entrateci, voi dovete essere molto seri. Aiutatemi e benvenito a venire! Ti faccio uscire! Eeeh, che non è una cosa bella? Non hai mai fatto l'uso? Ma dove andate? Ma non mi posso fermare! C'è io l'ho fatto un po' a fuoco! Bappo! Bappo non ha fatto l'uso per noi! Aiutatemi, Bappo! Ma che ne sapo, Bappo? C'è io l'ho fatto un po' a fuoco a fuoco! Ma non avete capito che c'è un Schiller che mi vuole ammazzare? Un Schiller! Ah, come ne posso, a me! Un Schiller, mi è un Schiller per qua! Bappo non mi senti bene! Lui ci sta già ballando? Si, vicino! No, aspetta! Lo so che ti dà un grande dolore, ma è femmina di me così, di me cattiva! Luigi! Io ho scoperto che non ti amo! Tu puoi essere padre, tu puoi essere curioso, da mi essere sfranciuta! No! Ma perché? Perché mi ha fatto un po' a fuoco a fuoco a fuoco? Io voglio un po' a fuoco a fuoco! Io voglio un po' a fuoco a fuoco! Devo guardare! Maソ Shepherdia! La mia sezione è sulla Resistance. Invece il Dio, invece il Dio! Cari a Mammallà! Non chiedi una victoria ma che io sono più o cupida o no! Si! Un ripeto proverò! Ma che vai! Ma che vai! Ma che vai! Ma che è successo? Ma che è successo? Ma che è stato? Io sono stato! Per me e sono stato! Non lo avevo anche la vostra tappa! Che non trovai la vostra tappa? Io, sono stato! Mi avete visto l'ora,mai! Mi avevo dimostra la mia… No, no! Che ne spi-prima! Ma che è successo? Io, sono stato io, sono stato io! Io è stato il sole! Mi andavano così bene all'interno di poste! Io sono stato io, che l'ha detto da noi, mi aveva seduto la figlia! Ma che fai io, sono ammazzato! Ma questo era il promesso sposo di donna Serafina a parlare! Che l'ha detto da noi, mi aveva seduto la figlia! Dio, quest'ora mi ammazzano! Uè, non mi mi sento c'è! Dandino, morti siete, quest'ora mi ammazzano! Uè, ma tu ci stai a me lo fa! Ma no, oggi mi chiedo, mi mangiate! Diamo sì, su quel uomo! Io sono stato io, che l'ha detto da loro, che mi aveva seduto la figlia! Stai così, su quel bacio! Vivo! Vivo! Ma no, dov'è vero, scusate, che è stato? Ma no, non ho scherzo, è riuscito! Ho scherzo, è riuscito! Nei, ma quale scherzo? Rivedete, ridete! Ho fatto spararci, vedete, con un petro! Ho un po' al salto! Io sono stato io! No, non ho scherzo, è riuscito! No, non ho scherzo, è riuscito! No, non ho scherzo! No, non ho scherzo! Grazie.